nella realtà non mente la via della conoscenza attraverso attilio m a cura di vb una voce ed ora siamo arrivati ad introdurre il discorso sulla mente che è la progressiva strutturazione dell'iniziale capacità duale e riflessiva dell'uomo poiché era prima necessario definire la specificità dell'essere umano nella sua forma naturale e quindi analizzeremo come si inserisce la memoria in ciò che la vita propone quotidianamente attraverso fatti incontri ed interrelazioni con gli altri esseri in genere è caratteristica umana quella di disporre di un'ampia capacità riflessiva che è in grado di articolare varie possibili soluzioni nell'ambito di situazioni che l'uomo non intende vivere o perché li ritiene pericolose o perché scomode quindi indesiderate voi la chiamate libertà di scelta ma è propriamente una capacità di elaborazione che fa poi i conti con i condizionamenti che ognuno di voi si trova ad incontrare sul proprio percorso esperienziale quindi non proprio una libertà prima di continuare questo discorso è necessario precisare che noi voci dell'oltre stiamo ragionando con voi non inoltrandoci e nemmeno dando pagelle sul modo con cui l'uomo interpreta e poi ripropone nel mondo intorno a lui le proprie caratteristiche di forma umana in rapporto con le altre forme viventi semplicemente ve lo mostreremo il giudizio di positivo o negativo fa parte della struttura mentale e assente nella realtà non mente grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti